Buongiorno a tutti, oggi ho deciso di parlarvi, visto che è l'ottantesimo anniversario del fallito attentato a Hitler, ho deciso di parlarvi dello sceneggiato Rai del 1967, andato in onda esattamente il 18 luglio del 1967, sul secondo canale dell'epoca, sul secondo programma. Una serie tv che si inseriva all'interno di quel contenitore chiamato teatro inchiesta, che veniva alternativamente presentato sul secondo programma e sul programma nazionale dell'epoca, sostanzialmente Rai 2 e Rai 1, che affrontava una tipologia di narrazione a metà strada tra lo sceneggiato e il documentario, l'approfondimento, che era già stato sviluppato in altri paesi negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Germania, quindi ci aveva avuto un certo successo a livello televisivo. In Italia si ebbero 36 episodi, 36 sceneggiati di questa tipologia tra il 1966 e il 1973. Quindi come si colloca il complotto di luglio all'interno di questa tipologia di formato? Allora, intanto il regista era Vittorio Cottafavi, che tra l'altro, un vecchio sceneggiatore, regista, autore televisivo, che tra l'altro per esempio aveva diretto La Trincea, che era stata la prima opera con cui si era appunto aperto il secondo canale, quindi in qualche modo aveva anche dato a battesimo, attraverso la sua attività televisiva, un certo credito alla storia televisiva nazionale. Ebbene, questa serie si colloca all'interno di un lungo percorso, come sappiamo, di opere televisive o cinematografiche, che si sono concentrate sull'attentato del 20 luglio 1944. E questo è particolarmente interessante perché non solo questo tema del fallito attentato a Hitler del 1944 ha suscitato nei decenni una certa curiosità, una certa attenzione, è stata riproposta appunto anche fino a tempi abbastanza recenti, pensiamo appunto al film del 2008 con Tom Cruise, quindi diciamo che vi è sicuramente un elemento di grande apertura, di grande sviluppo, diciamo, di interpretativo, anche con la sua evoluzione, perché tra l'altro il tema non è stato solo oggetto di film o sceneggiati a sé stanti, ma anche all'interno di altre pellicole, pensiamo a Rommel e la Volpe del Deserto, pensiamo a La Notte dei Generali, pensiamo all'ultimo film di Rommel, su Fromel, di una decina di anni fa, quindi diciamo che è stato anche oggetto di una serie di, diciamo, opere accessorie che hanno parlato in minima parte anche di questo attentato. Ebbene, quindi dicevo, all'interno di un filone che appunto si colloca nella modalità della presentazione in televisione di formati che sono un po' ibridi, che hanno appunto elementi teatrali, ma che hanno elementi anche del documentario, tanto appunto che avrebbero avuto un grande successo anche in Italia, in questa circostanza venne proposto questo tema, tra l'altro con la sceneggiatura di Gino De Santis e Roger Manuel, quindi come vi fosse anche l'interesse di poter inserire all'interno di una televisione nazionale dei prodotti già avviati e già collaudati all'estero per un tipo di pubblico anche italiano, quindi cercare anche di, diciamo, a un pubblico che, diciamo, negli anni Sessanta ha circa vent'anni dai fatti narrati che magari potevano conoscere o non conoscere, ma anche cercare di trovare magari nelle giovani generazioni un certo appeal verso questi temi. Come è strutturata questo film? Che si trova su YouTube, quindi potete vederlo, dura circa un'ora e venticinque, ovviamente ha una sua impostazione molto teatrale, tutto all'interno, dialoghi, come del resto, è proprio nel formato di questo modo di approcciarsi, di questa teatro inchiesta, quasi tutto, no, tutto totalmente in interni, con grande importanza ai dialoghi, con, diciamo, inquadrature molto strette, molto legate al viso, ai personaggi, all'elemento caratteriale, all'elemento anche espressivo. Questo specifico, per questa specifica puntata, ha tutta, nonostante appunto sia teatrale, ma ha maggior ragione a tutti gli ingredienti per le famose tre unità aristoteliche, di spazio e di tempo di azione. Perché? Perché inizia non tanto nella descrizione della programmazione, della pianificazione di questo attentato, ma già si parte che l'attentato è già avvenuto, quindi è tutto ambientato nelle stanze del Ministero della Guerra a Berlino, sappiamo che l'attentato invece sarà a Rastenburg, diciamo, nella Prussia orientale, nella Tana del Lupo di Hitler, dove appunto vi sarebbe dovuto essere una riunione nel bunker, poi in realtà faceva molto caldo e quindi venne fatta in una baracca in superficie. Questa baracca ovviamente riuscì, no ovviamente, purtroppo riuscì ad attutire per una serie di circostanze il colpo, alcuni vennero feriti e miracolosamente Hitler si salvò, rispetto appunto all'idea di poter appunto soffocarlo nel bunker. Dicevo, quindi già c'è l'interesse a dare quasi per scontato, ma in realtà ci si arriverà un po' dopo, nel senso che il racconto piano piano ci spiega, ci introduce all'interno delle dinamiche, le dinamiche anche del protagonista, Stauffenberg, il colonnello von Stauffenberg, che in qualche modo è il simbolo di questo attentato, è anche la vittima ovviamente per tutta una serie di circostanze. Meno mato, cioè invalido, gli mancava un occhio, gli mancava una mano, gli mancava una mano, non ce l'aveva, l'altra era con poche dita, quindi diciamo che è una situazione già abbastanza e tale da permettere di poter avvicinarsi senza particolare i controlli alla corte del Führer. Dicevo, arriviamo all'inizio del film con, praticamente scopriamo che l'attentato è già avvenuto, con una serie di dinamiche in cui si cerca di capire se quest'essuto sia stato positivo o negativo, in realtà, diciamo, per ampia parte di quest'ore e venti si ritiene che l'attentato sia avvenuto realmente, sia stato un buon successo, anche perché lo stesso Stauffenberg dichiara che la baracca è stata completamente divelta, completamente esplosa, quindi Hitler non può essere sopravvissuto, in realtà, appunto, si sussegue una serie di vicissitudini che porteranno scusate, al ritenere che, appunto, poi alla fine la situazione si è rovesciata, quindi se Hitler sopravvive i congiurati hanno una loro ricattabilità e una loro, diciamo, perseguibilità a livello, appunto, di tradimento. Quando invece, qualora Hitler fosse morto, tutti quelli che erano fedeli a Hitler potevano essere giudicati, traditori e quindi incarcerati e, diciamo, rinchiusi. E quindi si va a costruire all'interno di tutta la puntata un'evoluzione molto particolare in cui, appunto, si gioca sempre al ribaltamento Hitler è morto sì, Hitler è morto no, Hitler è morto sì, Hitler è morto no, in senso, si cerca sempre di capire un po' la dinamica e capire un po', si cerca di sbugiardare l'altro quando in realtà piano piano si va sempre più a a capire che in realtà è una speranza o addirittura si cerca di dire vabbè, ma anche se non è morto continuiamo perché tanto non possiamo fare altrimenti. Quindi è una sorta di gioco di specchi in cui, indipendentemente dal fatto che Hitler possa essere morto o meno, beh, noi siamo comunque in ballo, dobbiamo ballare. E quindi è molto interessante il gioco di incastri all'interno, ovviamente, di una dinamica di di non detti, di reticenze, di incomprensioni, di problemi legati appunto al convincere e convincersi del risultato effettivo di questo attentato appunto e anche in relazione ovviamente a tutto il mondo circostante perché poi alla fine come si evidenzia anche nella parte finale della puntata in cui appunto vengono inserite delle interviste, delle analisi critiche diciamo anche a posteriori e questo è interessante perché tutta la puntata si inseri si va a essere intervallata anche da momenti documentaristici da scene d'epoca in cui appunto ci permette anche di capire un po' l'elemento più diciamo chiarificatore rispetto all'elemento teatrale che molto spesso si dilunga su rapporti interpensionali e perde un po' l'elemento della visione d'insieme. Quindi dicevo nella parte finale abbiamo la contizza che questo complotto questa azione è un'azione tipicamente militare dettata da motivi militari cercare una via di uscita la guerra che ormai è persa non ha elementi ideologici non ha elementi rivoluzionari non si vuole fare una rivoluzione non si vuole fare qualcosa di straordinario si vuole semplicemente uccidere il capo e con l'uccinesi del capo mettersi diciamo cercare un accomodamento con gli alleati per poter riuscire in qualche modo da risparmiare mesi e milioni di vittime alla Germania di guerra ovviamente e questo è interessante ovviamente anche nella comprensione nella consapevolezza che è una battaglia versa lo spettatore sa che l'esito già lo sa prima un po' come negli attentati nei reputati di Colombo il tente Colombo in cui già sai prima chi è l'assassino e devi solo capire e devi solo diciamo domandarti come farà Colombo a capire chi è l'assassino in questo caso invece tu sai che Hitler è vivo purtroppo e soltanto ti aspetti da un momento o l'altro che tutti si persuadano che così è andata purtroppo e che la situazione è persa invece fino all'ultimo c'è un arrocco completo nel cercare di convincere se stessi ripeto e il proprio circolo intorno per cercare di dire no ma il Führer è morto in qualche modo continuiamo abbiamo la modalità per agire noi disarmare le SS disarmare tutti coloro che in qualche modo sarebbero stati fedeli al Führer e in qualche modo cercare di prevenire una reazione una controazione dei confronti degli altri e questo ovviamente si inserisce all'interno di un elemento anche di zona grigia pensiamo appunto come anche alla fine di questa serie ovviamente il 67 si torna su quella vulgata che vorrebbe anche Rommel un fautore dell'attentato in realtà appunto una storia più matura più aggiornata sa che Rommel nella migliore delle ipotesi era solo informato nel senso che aveva una sua informazione ma non partecipò attivamente neanche moralmente possiamo dire a questo progetto quindi diciamo che evidenzia ovviamente una sua storicità nel 67 con quello che ovviamente si sa all'epoca ma secondo me è molto interessante anche nella comprensione ripeto di un confronto con l'attualità ed è un tema su cui io mi sono battuto negli ultimi mesi proprio per dire beh diciamo che la Rai ultimamente ha fatto delle opere obrobriose delle opere schifose sotto l'aspetto veramente di ricostruzione storica non si possono guardare però un tempo le facevano anche con una certa accuratezza con una certa dose di elemento critico di analisi di propulsione di propensione a poter in qualche modo non dico istruire perché è un parolone però cercare di intrattenere ma in maniera culturale cercare di fare un elemento di cultura di approfondimento serio ragionato perché in qualche modo di poter anche dare delle informazioni utili per appunto la storia recente dicevo un film per la tv una fiction uno sceneggiato come vogliamo chiamare molto interessante e che secondo me appunto ha all'interno di una solida base di professionisti che personalmente per lo più diciamo gli attori non mi dicono nulla magari appunto parlando di 50 quasi 60 anni fa 56 anni fa probabilmente 58 anzi 57 anni fa magari all'epoca erano molto per la maggiore a me viene in mente solo Marcello Turilli detto Max Turilli che all'epoca in quel film in questa serie questo film fa un ufficiale delle SS che poi sarebbe stato poi caratterizzante per una serie di film nel loro ruolo del tedesco diciamo ho dedicato anche un video a lui quindi diciamo che mi sembra interessante citarlo oltre ovviamente a Riccardo Cucciolla che in questa e in questo film fa il narratore una voce molto iconica molto riconoscibile che lo avremmo appunto poi incontrato oltre come attore ovviamente una serie di documentari anche di altre opere analoghe in cui appunto la sua voce molto chiara molto schietta molto diciamo cristallina può in qualche modo anche accattivare l'interesse del pubblico quindi ho trovato un ripeto uno sceneggiato di grande interesse di grande qualità forse ovviamente a vederlo oggi a distanza di tanti decenni potrebbe essere un po' noioso mi rendo conto che in elemento teatrale quasi senza musica o con la musica siamo sì presente ma non sempre quando si dovrebbe oggi lo farebbero sicuramente diverso però i risultati dei sceneggiatori e dei produttori recenti mi metterebbe le mani nei capelli però in qualche modo apprezziamo l'impegno apprezziamo comunque il proprio stile all'interno di questo formato come quello del teatro inchiesta che rappresenta come un contastello importante della storia della televisione e della storia della cultura italiana perché poi diciamo che in qualche modo diciamo all'epoca ancora una società non del tutto scolarizzata che in qualche modo aveva ancora molte lacune sotto l'aspetto della comprensione di letture di attività di varia natura quindi diciamo che sì il boom era stato avviato ma l'elemento della scolarizzazione piena appunto ancora la vigilia del 68 con tutto ovviamente tutto ciò che comporta anche il passaggio no del passaggio tra il decennio dell'Italia degli anni 60 quello degli anni 70 con tutto ovviamente che avrebbe comportato negli anni 70 però interessante appunto di un'analisi anche di moralizzazione di emancipazione culturale che in qualche modo la televisione ha fatto all'epoca e che ancora avrebbe potuto fare oggi possiamo dire il contrario con tutte le serie e le attività dei programmi molto beceri che esistono purtroppo nella divisione degli ultimi 30-40 anni ma ovviamente questo è un altro discorso qui diciamo già ci siamo spesi e non sono il primo ovviamente a trattare questo argomento quindi mi limiterei al tema che mi sono dato ossia quello di analizzare come la storia venne rappresentata al cinema e alla televisione e quindi come in questo senso la storia può essere un veicolo anche di informazione di formazione anche culturale identitaria possiamo dire detto questo quindi vi invito a vederlo se non l'avete mai visto magari vi metto anche il link in descrizione come al solito vi invito a mettere mi piace iscrivetevi al canale e alla prossima ciao